buongiorno a tutti amici oggi ho intenzione di parlarvi di un fantastico strumento di video editing che ci permette di fare delle cose veramente straordinarie lo strumento di cui vi parlo è il semplice editor video di windows per cui presente già in ogni computer con windows 10 ci permette di fare dei video veramente accattivanti come ad esempio mettere degli effetti 3d veramente eccezionali come ad esempio questo oppure anche quest'altro bene andiamo subito a vedere di che cosa si tratta ecco qua siamo nel nostro windows 10 basta andare fare clic su start per cercare il nostro programma editor video scorriamo in basso fino alla e ed eccolo qua facciamo clic il programma si avvia e si avvierà immediatamente nella libreria dove abbiamo i nostri progetti diciamo già realizzati andiamo a crearne uno nuovo è sufficiente fare clic su un nuovo progetto si apre la schermata per dare un titolo quindi prova effetti uno schiacciamo ok si illumina la possibilità di aggiungere i file aggiungi da questo pc dalla ramiera raccolta e dal web premetto che tutto questo lavoro che faremo lo possiamo fare sia sui video sia su fotografia ok io ho già preparato un video dove volevo voglio aggiungere degli effetti 3d per cui vado a prendermelo da questo pc scorro finché non lo trovo ecco qui e aspetto che lo carica a questo punto devo portare il mio video nello storyboard o per trascinamento o facendo clic su posiziona nello storyboard benissimo il mio video è andato subito qui in anteprima prima di procedere però a lavorare sul video andiamo ad aggiungere una scheda di titolo a questo lavoro facendo clic su aggiungi scheda titolo ecco qua che si è aperta la seleziono mettendo il check nel quadratino per cui le modifiche verranno apportate solo a questa immagine ok e andiamo a vedere la durata impostata su 3 secondi potrei cambiarla da 1 a 7 secondi o scrivere qui la durata che io voglio ma per una scheda titolo 3 secondi più che sufficiente per cui la lasciamo così andiamo su testo ed ecco che abbiamo la possibilità di scegliere e di cambiare il titolo che scriviamo prova ok e di dargli una serie di titoli un po particolari come ad esempio amore gioia classico eccetera eccetera vedete ce ne sono tanti così come potete scegliere anche il layout se al centro della pagina se su due righe eccetera eccetera andiamo mettiamo gioia ok e lo lasciamo al centro perché bello grande a questo punto qui in alto potrei cambiare anche lo sfondo ok lo sfondo basta fare clic sul colore che preferite ecco qua oppure un colore personalizzato più si apre il gradiente fate clic sulla posizione del colore che più vi aggrada schiacciate ok e ve lo dà all'interno ok benissimo a questo punto facciamo clic su fatto e la nostra scheda di titolo è pronta adesso deselezioniamo la scheda titolo e andiamo a selezionare invece il video sul quale vogliamo lavorare vedete che si aprono la stessa possibilità di modifiche di aggiustamenti che io posso fare il mio video dal taglio al dividi andiamo partiamo con dare scrivere un breve testo su il video o su ogni immagine come preferite dipende da cosa state lavorando mettiamo scritta prova come vedete di default mi dà la precedente scelta ma io posso cambiarla da qui metto amore non lo lascerò al centro ma lo metto in basso così potete insomma l'immagine o della foto del video rimane bella aperta ecco si vede tutto qui avete la possibilità di allungare la durata del titolo anche per tutta la durata del video ok o accorciarla in base a come volete o farla apparire anche dopo spostandola così non partirebbe subito ma quando il video arriva a questo punto si leggerebbe la scritta ok mettiamolo dall'inizio benissimo e procediamo a vedere qui in alto qui c'è lo strumento taglia se volessi tagliare il video vedete qua mi dà la lunghezza e muovendo questi cursori io ho la possibilità di tagliare lo lascio intero perché lo voglio per intero annulla ok andiamo adesso abbiamo visto taglia testo andiamo filmato ecco che si aprono tutte delle possibilità di scelta rispetto al focus della telecamera potremmo dare lo zoom al centro zoom indietro e via dicendo proviamo a mettere zoom al centro senza cliccare su fatto procediamo a fare le altre modifiche andiamo in quella degli effetti 3d facendo clic attendiamo che si apre qui sulla mia destra la possibilità e subito vediamo una serie di possibilità ok di effetti da poter inserire vado a cercarmi nel mio video perché so che ho preparato precedentemente dei punti in cui alzo le dita dove voglio esattamente che vada a finire l'effetto per cui trascino il cursore vedete nel video io mi sto muovendo anche rapidamente eccolo qua il primo dito che si alza benissimo questo punto scegliamo globo rotante basta farci clic o per trascinamento e il globo ecco che appare nel video posizionandomi con il mouse sopra di esso vedete che ho le quattro frecce e lo trascino sopra al mio dito lo ingrandisco quanto voglio lo posso anche ruotare insomma come volete anche così o così insomma esattamente come volete come vedete tra le possibilità c'è anche il volume ma visto che un video parlato il volume meglio toglierlo altrimenti si andrebbe in confusione se sono delle immagini invece potrebbe essere interessante lasciarlo come voi vedete qui in basso inizio dell'effetto ma io sono qui con il cursore per cui per trascinamento prendo questo punto e lo vado a mettere esattamente qui dove partirà il mio effetto benissimo adesso so nel video perché l'ho preparato prima che alzo anche un'altra mano per cui mando in play ecco qua e vado a inserire un altro effetto 3d porto un altro cucchino più indietro perché la mano è andata troppo su ecco qua e vado a inserire un altro effetto 3d e questa volta però lo prendo non dalla categoria effetti ma da libreria 3d benissimo si apre la libreria con molte molte possibilità vedete ne scelgo una quella che più preferisco vi avevo fatto vedere il dinosauro andiamo a vedere in fantascienza e fantasy ecco qua vedete insomma ci sono veramente molte cose simpatiche ok andiamo a prenderci all'inizio visto un unicorno faccio clic sull'unicorno e l'unicorno attendo arriverà anch'esso nel mio video ecco qua che l'unicorno è entrato nel video lo sposto come ho fatto per il mondo lo ingrandisco un pochettino ecco qua e qui posso decidere di volerlo in altra posizione ad esempio verso di me qui ho altre possibilità perché posso dare un'animazione rapida a questo effetto apro e vedete che si aprono le possibilità facciamo salta e gira come prima togliamo il volume perché sennò andrebbe ad interferire con il mio audio e vado ad aggiustare l'inizio dell'effetto perché io la mano la sto alzando adesso ok per cui l'effetto deve venire fuori esattamente quando dico io mandiamo in play ecco qua come avete visto ok il mondo è andato via al punto giusto ma l'unicorno ancora no per cui la fine dell'effetto questa volta lo sposto e lo metto qui andiamo a rivedere un attimo ecco qua e in teoria adesso saremo a posto c'è un altro modifica che potremmo fare di miglioria volendo ed è proprio su filtri qui si possono dare dei filtri al video ok ce ne sono di svariate possibilità dal classico fino all'arcade insomma anche il pixelato vedete fa proprio l'effetto il bianco e nero intenso al momento lasciamo originale a questo punto che ho finito tutte le modifiche migliorie faccio clic su fatto ottimo un'altra cosa posso fare interessante allora una è la velocità del mio video da può essere lento da normale o velocizzarlo altra cosa che posso fare è aggiungere la musica di sottofondo se io schiaccio qui musica di sottofondo mi apre tutta una serie di suoni preimpostati direttamente dal computer e facendo mettendo il check se sincronizza il video al ritmo di musica ok la musica durerebbe per tutta la lunghezza del mio video al momento non mi interessa quindi faccio clic su nulla in audio personalizzato invece ci farebbe inserire un nostro audio direttamente dal nostro pc da qua aggiungi file audio me lo farebbe ricercare caricare esattamente la stessa funzionalità del precedente una volta che il nostro video è pronto vediamo dall'inizio proprio un attimo ok portiamolo ancora più avanti che ci andiamo a vedere gli effetti ecco qua così controlliamo vedete ecco qui il mondo andrebbe spostato un altro pochino ma non importa giusto che ci siamo capiti ecco qua perfetto una volta controllato il tutto basta fare a questo punto clic su termina il video mi fa scegliere la qualità del video da alta media o bassa altre opzioni nel momento in cui ho fatto le mie scelte basta fare clic su esporta mi fa scegliere nella cartella nella quale voglio esportarlo vedete io ho messo desktop il titolo va benissimo mp4 e faccio clic su esporta questo punto non testa altro che aspettare il tempo dell'esportazione voi troverete il vostro video esattamente dove l'avete salvato ecco qua amici come avete potuto vedere l'utilizzo di editor video è veramente molto semplice ed intuitivo ora non mi resta che augurarvi buon divertimento con tutti gli effetti possibili e immaginabili ci vediamo alla prossima buona giornata a tutti